è stata colpa di nessuno abbiamo perso una palla in transizione dopo Giovannini lo sappiamo una scheggia e ci ha fatto gol abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere sì decisamente è stata una prima settimana molto dura abbiamo caricato molto infatti oggi eravamo secondo me quasi tutti le gambe un po piene credo ci sia un po visto però è stato un buon allenamento ma l'ambiente secondo me è molto sereno di questo fatto dell'iscrizione tendiamo a non pensarci pensiamo positivi ci alleniamo da professionisti nel senso che quando entriamo in campo poi pensiamo solo al campo carico di lavoro settimana è stato tosto perché abbiamo fatto i 1500 abbiamo fatto carichi di forza testi atletici quindi tutto sommato siamo belli pieni io varo anche erco che c'era dall'anno scorso finissima nel parto che ci conosciamo un po meglio